le lettere ponte l m n r ciao bambini oggi parliamo delle lettere ponte le lettere ponte sono l m n ed r quando precedono un'altra consonante e non generano una doppia si definiscono tali perché uniscono due sillabe salto tempo ponte merlo possono far cambiare il significato delle parole voto diventa volto capo diventa campo nella divisione in sillabe le lettere ponte si uniscono alla sillaba che precede cal ma tor ta andiamo a svolgere gli esercizi che potrete scaricare e stampare seguendo il link che trovate nella descrizione del video osserva i disegni e scrivi la lettera che fa da volpe felpa porta fungo bambù panca tempo ponte barca merlo lampo palma osserva i disegni e scrivi la lettera che manca forchetta pulcino coltello bandiera imbuto lucertola fisarmonica fisarmonica pentola lampione campana vulcano fantasma osserva i disegni e scrivi il loro nome fontana serpente poltrona ombrello albero formaggio armadio lampadina cantante cantante salsicce diamante ambulanza lamettina a car sto ut 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 Grazie a tutti